Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Bene, io mi stupisco sempre di un'anomalia italiana che è questa. Ovunque nel mondo occidentale la destra vuole legge e ordine. La sinistra è molto più blanda sul rispetto delle regole. In Italia è la rovescia. Abbiamo una destra che predica, anche se solo per certi soggetti, l'assoluta impunità. E questa è una cosa davvero stravagante. Quando io leggo che Nordio, che pure dovrebbe sapere quello che dice, visto il mestiere che ha fatto, dice che in Italia per esempio si fanno quattro volte più intercettazioni che negli altri paesi europei e molti di più che nei paesi anglosassoni, dice una cosa non vera. Semplicemente l'Italia ha una norma costituzionale che stabilisce che tutte le limitazioni della libertà di comunicazione devono essere adottate dall'autorità giudiziaria. Noi siamo l'unico paese al mondo dove un magistrato, nella specie il procuratore generale di Roma, presso la Corte Appello di Roma, deve autorizzare le intercettazioni di servizi segreti. All'estero di intercettazioni ne fanno molti di più che in Italia, ma le fa l'esecutivo. Allora, aspettiamo.